La nostra trasferta siamo in 5, di cui io, Fabietto, 5, arrossi sublimi, c'è un cuoco piccolo Quale, Essio? No, veramente, è in più o meno Tutto così, è un cuoco buffo particolare Merde! Che cazzo? Tutto per 5, bre Come andare a assaggiare, non si dimentica di controllare Una luce in più! Una luce in più! I polletti, torte e babà, bianco e il capello che sembra... Tirati! Tirati! Vai! Dai! 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 Dai ragazzi! Primi, secondi, bruciutte e piselli, ciò per il vento... Samanta, ti carico! Samanta, ti carico! Aiuto, aiuto, aprite la finestra, che confusione, che cuoco pasticcione! Nella cucina del gran ristorante, che profumino poco invitante Tutti li tingoli, stanno per bruciare, ma il nostro cuoco...